Benvenute e benvenuti nel primissimo video sul canale che non parla di ceramica, oggi scopriremo cos'è la cianotipia. Che cos'è la cianotipia? Non lo so, mi dispiace, arrivederci. No, scherzo chiaramente, la cianotipia è un'antichissima tecnica di stampa che usa due composti del ferro che miscelati insieme creano un'emulsione fotosensibile che vuol dire che esponendola alla luce con sopra i nostri soggetti riusciremo ad imprimere i nostri, appunto, i soggetti che abbiamo scelto sui supporti che abbiamo emulsionato con questa miscela. Con la cianotipia possiamo creare delle vere e proprie stampe monocolore che appunto danno sul blu da qui il nome ciano. Cianotipia. Cianotipia. Genialata, eh? Di che cosa abbiamo bisogno per stampare i nostri soggetti con la cianotipia? Abbiamo bisogno chiaramente dei due composti del ferro. Vi lascio in descrizione il link per acquistare un kit che comprende questi, queste due composti e alcuni pennelli. Abbiamo bisogno della carta da disegno, da acquerello, su cui stampare appunto. Poi abbiamo bisogno della luce del sole. Se non avessimo la luce del sole in una giornata buia possiamo utilizzare una lampada LED UV che vi lascio sempre in descrizione il link per acquistarla. Poi abbiamo bisogno di un vetro trasparente, di una bacinella per sciacquare le nostre stampe e chiaramente dei nostri soggetti che possono essere o delle foto oppure gli elementi classici che si usano sono i rametti, foglie e fiori che possiamo trovare dappertutto. Allora la prima operazione che farò sarà quella di miscelare insieme i due composti. I due composti vanno miscelati in parti uguali, agitiamoli un pochino, apriamo e mettiamo un tappo del primo composto, voilà, un tappo del secondo composto, ghiaccio, lime, menta e shakeriamo. No, scherzo chiaramente. Iniziamo a miscelare con un pennello, ci appoggiamo su un cartone in modo da non macchiare la superficie sottostante, mischiamo. Una volta che abbiamo miscelato andremo a spennellare l'emulsione sulla carta stendendo 3-4 mani, prima in un verso e poi nell'altro, in questo modo qui. Stendiamo il primo, lasciamo asciugare un secondo, stendiamo il secondo nell'altro verso, lasciamo asciugare un secondo, il terzo, il quarto. Una volta che abbiamo finito di stendere l'emulsione dobbiamo farlo asciugare al buio, altrimenti inizierebbe già il processo di stampa, quindi lo mettiamo al buio e lo metto in un cassetto, voilà. Oppure spegniamo tutte le luci e lo asciughiamo con un phon, finché il colore non passa da questo giallino-verdino a un grigio-verde. Io intanto procedo a stendere l'emulsione su qualche altro foglio. Allora, nel frattempo che i nostri fogli stanno asciugando, vi faccio vedere cosa andremo a fare quando andremo lì fuori. Lo vediamo dentro perché fuori dovremmo essere veloci, altrimenti la luce del sole immediatamente inizia a imprimere i soggetti. Allora, ho raccolto un poco di rametti di pianta officinale e qualche foglia, quindi a che farò? Andremo fuori, avremo le nostre fogli con l'emulsione stesa, quindi lo poggeremo su un piano, comporremo la nostra composizione appunto con i vari rami e le varie foglie, in questo modo, e poggeremo un vetro sopra in modo che il vento non sposti la composizione e metteremo un timer per 5 minuti. Una volta passati 5 minuti toglieremo il vetro, la composizione e lo sciacqueremo nella bacinella. Che cosa possiamo stampare in Cianotipia? Possiamo stampare praticamente tutto quello che vogliamo, quindi oggetti, rametti, penne, cacciaviti, chiavi inglesi, tutto quello che vogliamo, oppure possiamo trasformare le nostre foto in soggetti stampabili per la Cianotipia. Come facciamo a fare questa cosa? Super semplice. Se abbiamo la nostra foto sul computer, quello che dobbiamo fare con qualsiasi software per le immagini è prendere la nostra foto, convertirla in bianco e nero e invertire i colori e andare in copisteria e farcelo stampare su questi fogli di acetato trasparente. Vedete qui c'è il nostro Silvio. Imprimeremo anche questa foto del nostro Silvio nazionale che mi sta chiamando per andare a uno dei suoi party al Bunga Bunga dove ci divertiamo un sacco. Quindi spostiamoci all'esterno che vi faccio vedere come procedere. Allora posizioniamo il nostro foglio, velocissimamente posizioniamo la nostra foto, così. mettiamo sopra il vetro e impostiamo il timer per quattro minuti. Vedete che l'emulsione inizia a scurirsi, vedete qui sopra, e quindi quando saranno finiti quattro minuti toglieremo l'immagine dal foglio e andremo a sciacquare il foglio nella bacinella con dell'acqua corrente. Quindi inseriamo l'immagine nell'acqua e iniziamo a sciacquare in questo modo. Praticamente buttiamo dell'acqua sull'immagine finché l'immagine non comparirà sul foglio. Quando l'acqua inizia a diventare verdina, allora prendiamo la foto, svuotiamo l'acqua, riempiamo nuovamente la bacinella e poggiamo la nostra immagine. E continuiamo a sciacquare un altro poco la faccia di Silvione. Una volta che la stampa non rilascia più colore nell'acqua, quindi vuol dire che siamo pronti per lasciarla asciugare all'ombra. Ecco qui i risultati, vedete come la foto è uscita bene, mentre queste due composizioni sono leggermente diverse, perché questa è stata esposta un po' di più, questa un po' meno. Vedete qui i dettagli sono meno evidenti, ma il blu è più acceso, mentre qui un po' più sbiadito, magari con qualche dettaglio in più dei vari rametti, però di un blu più sbiadito. Quindi dobbiamo fare un po' di prove per capire con la luce del sole quanti minuti lasciare nelle nostre stampe. Avete visto com'è stato super semplice e velocissimo stampare i nostri soggetti appunto sulla carta dove avevamo steso l'emulsione. E la cosa è molto divertente, perché possiamo divertirci anche insieme a più piccoli a sperimentare con forme, oggetti, foto, immagini e quant'altro. E la cosa bella è che potremmo anche prendere un foglio lucido, un uniposca nero di quelli belli coprenti e disegnare il nostro soggetto, un nostro pattern e quindi imprimerlo sulla carta. Nella descrizione come al solito vi lascio tutti i link per acquistare i vari prodotti. Come al solito non dimenticatevi di mettere un mi piace, di condividere questo video e di iscrivervi al canale. Spero che questo primo video che non era sulla ceramica vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Ci vediamo prestissimo con un nuovo tutorial. A presto. Ciao ciao!